Giornata di sciopero per i medici dell'ospedale annunziata di Cosenza. Al centro di questa presa di posizione del personale medico e paramedico, la carenza di personale e il collasso della struttura sanitaria. Siamo sotto organico di 156 infermieri al 31 dicembre 2014, di 250 medici, di 220 operatori sociosanitari. E in più siamo l'unico ospedale a questo punto del territorio, visto che gli altri sono sguarniti e laddove ci sono, vedi Rossano, non è che la situazione sia migliore. Un appello è stato lanciato anche al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, affinché possa visitare personalmente la struttura per rendersi conto delle criticità in cui versa oramai da troppo tempo. Lo sciopero è stato inevitabile, c'è stata un'insensibilità istituzionale senza precedenti. Abbiamo scritto ben tre lettere a Lorenzin nel corso di questo anno, abbiamo scritto al Premier Renzi. Ci siamo rivolti sia a livello locale che regionale, nazionale, a tutti quanti. Non abbiamo avuto altro che momenti di scoraggiamento e la consapevolezza di essere soli. Oggi è l'ennesimo grido di dolore che parte da questa struttura, dopo che per un anno si è cercato di portare, di dire a chiare lettere alle istituzioni qual'era la situazione dell'ospedale di Cosenza, come fossero a rischio i diritti di salute dei cittadini e come ci fossero grossi problemi sia come carenze di personale che gestionali e strutturali.